A Bibione invece si promuove il brand delle 5 acque che circondano l'isola di Bibione e la ConfCommercio sposa appunto questo brand. L'abbiamo chiesto allo stesso presidente della ConfCommercio di Bibione, Favit. Sentiamo. Voi state sposando una nuova iniziativa per quanto riguarda Bibione che si presenta con le 5 acque. Beh sì, questa iniziativa che è nata dall'idea del presidente del consorzio albergatore di Bibione dal signor Nosella Federico che ci è stata proposta alcuni mesi fa, io l'ho sposata da subito già per il nome perché Bibione 5 acque ci fa ricordare che noi non abbiamo solo la spiaggia e il mare ma abbiamo un territorio che va al di là di questo e che le 5 acque rappresentano appunto un qualcosa di originale e di unico che difficilmente si può trovare in altre località. Per cui già questo mi ha subito entusiasmato dall'inizio e poi perché secondo noi questa è una risposta ad un'esigenza del nuovo mercato turistico. Inoltre voglio precisare che mi è anche piaciuta da subito perché una organizzazione, una categoria del ricettivo come gli albergatori che riescono insieme ai commercianti che pur lavorando sul stesso territorio e avendo lo stesso pacchetto di clienti finora avevano sempre lavorato in maniera un po' a compartimenti stagni, invece questa iniziativa ci relaziona tra di noi, crea delle sinergie che secondo me vanno incontro a quello che è l'esigenza del nuovo mercato, soprattutto del mercato turistico straniero. Io penso, questo è un pensiero mio, che quando un turista straniero arriva in Italia, in un paese italiano, si aspetti di trovare dei prodotti che caratterizzano quel territorio. Noi siamo famosi e siamo anche apprezzati in tutto il mondo perché abbiamo una miriade di prodotti di grande qualità e che caratterizzano i vari territori. Per cui l'idea di creare un brand, di creare una serie di prodotti che poi il turista che li acquista, se li porta a casa e per tutto l'anno li ricorda il momento di ferie, sicuramente è un qualcosa che a Bibione mancava. Per cui noi abbiamo soprattutto sposato in pieno l'iniziativa, ma faremo tutto quanto c'è possibile nel migliore dei modi perché questa iniziativa continui a crescere e si arrivi veramente a creare un prodotto del territorio che non solo sarà sicuramente una cosa apprezzata dai turisti, dal mio punto di vista, ma è anche in qualche modo contrapporre a quello che oggi i turisti trovano sul mercato, che molto spesso sono prodotti contraffatti, sono prodotti che sono venduti in modo abusivo e legittimo. Invece questi saranno dei prodotti che caratterizzano il nostro territorio, costruiti nel nostro territorio, per cui dalle aziende che operano nel nostro territorio e che daranno, credo, un plus a quello che è la nostra offerta turistica tradizionale che è quella della spiaggia e del mare.